Ciao a tutti, bentornati su Fabio's Lab. Oggi un vlog, in quanto in questo periodo noi cuochi nei ristoranti ovviamente siamo molto presi e purtroppo non ho avuto il tempo di portarvi nuove ricette. Ci tengo però a condividere con voi i 5 video più visualizzati del canale. Oltre ho aggiunto un filmato di un progetto fatto in collaborazione con uno street artist di Padova, Seneca. In descrizione vi lascio il link di Facebook e Instagram di questo artista, quindi seguitelo. Lo condivido con voi anche per ricevere dei commenti e dei consigli su come migliorare il mio videomaking. Colgo l'occasione per augurare a tutti voi Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Vi aspetto l'anno prossimo con nuove videoricette. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere nessun nuovo video. Con questo vi saluto, vi auguro ancora buone feste e ci rivediamo sempre qui con le nuove videoricette il venerdì dopo le festività. Un saluto, a presto, ciao! 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 ! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti